Ma quanto sono importanti, alla luce anche dell'esperienza del premio delle start-up per il Made in Italy, per quello che noi in questa puntata di Economy Up abbiamo definito il nuovo Made in Italy? Sono, secondo me, semplicemente l'energia del futuro, nel senso che dal sistema delle start-up nascono continuamente nuove aziende loro medesime oppure spunti di miglioramento per aziende che già esistono. Quindi la possibilità poi di fare merge, di aggregare e di sviluppare da parte di aziende che già esistono. Il bello di questo mondo qui, della tra virgolette innovazione, del nuovo modo di fare impresa, è che è molto flessibile, cambia continuamente. Al centro c'è però un'enorme dose di energia, di visione e di saper fare, che poi può atterrare, si può convogliare magari anche in strutture che sono già un po' più tradizionali e che possono dare la loro parte di razionalizzazione. Io dico sempre cervello, cuore e evidentemente anche saper fare con le mani, che è un po' il tema che l'Italia può cavalcare nel futuro. Reteconomy, la nuova visione dell'economia.